Sarà Penso, il Tavagnacco esce sconfitta dal campo del Brescia però esce a testa alta. Sì, usciamo a testa alta, anzi con forse un po' di rammarico perché comunque l'1-1 in pareggio ci stava. Loro hanno fatto tutto il primo tempo, noi abbiamo giocato bene il secondo, quindi penso che eravamo proprio due squadre alla pari. Loro sono state fortunate sul primo gol che forse era un po' anche in fuorigioco e vabbè questo è il calcio, faremo sicuramente meglio sabato prossimo che ci aspetta comunque il Mozzanica. Come valuti la tua prestazione? Hai rischiato un'uscita sul primo gol, poi hai salvato il risultato in un paio di occasioni, come è andata? Sì, la mia prestazione? Io penso di essere andata bene, poi è logico che ognuno pensa di essere andato bene, però sì, il primo gol ho preso una decisione forse un po' avventata, però ci stava. O rischiavo l'uscita o restavo in uno contro uno, me la sono sentita così, è andata come è andata. Poi sì, ho salvato il risultato su un altro uno contro uno con Tarenzi, quindi sì, io penso di essere andata dai, forse un 5 e mezzo, 6 ve lo darei. Ok.